qui ci sono 3, 4, 5 e 6 non so perché sto facendo questa cosa ma tanto non ha durabilità e non vuoi spaccheremo in via quindi va bene oh my god oh my god la cosa sarà un po' brutta e cattiva sono molto insensibile io spacco i boetti di terra non mi guardate così ragazzi non mi guardate così ho spiegato anche i stricchietti per fare i materiali è un furto io denuncio quello che ho fatto questa mod ma ti sembra mai possibile che uno devi spiegare tutti gli utensili di una vita tutti in diamante per fare una cosa di questo genere non ci credo ce l'ho lasciato vabbè ma è finita facciamo così e sfruttiamo il dono della mod dio 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 ok perfetto no perché fai così ah sì che bello perfetto sta facendo notte oddio è notte oddio è notte andiamo a dormire velocemente anche prima che qualche mob mi cada dalla testa figo figo muovi il bacino muovi il bacino ok io puro che sempre cada qualche mob aspetta rinnoviamo qui ma mettiamocela tutte ma dammi se qui non voglio che sempre chiamolo no ho sbagliato dio no c'è a te no c'è colpa tua lo fanno di tre alto come sprecare anni e anni di carbone no c'è no c'è un no c'è e se io faccio di cobblestone accontentate no perché non c'è più l'effetto devi fare l'effetto tu porco maiale ok basta facciamo di cobblestone che ho deciso che stai scherzando a me sono scemo poi quando ci facciamo la la polymorph stone la tutto risolto perché cambiamo da da cobblestone a stone non ci vuole niente ok questo è fatto devo farlo cosa è che si fa notte in improvviso no ok non è notte io sono scemo avrei voluto risparmiare un casino di tempo perché alla fine c'era la filosofia stone che mi risolviva tutto ok qui manca sull'ultimo pezzo che faremo così adesso qui c'è la torcia ok qui ok qui si chiude qui ok 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 benissimo quindi ora possiamo fare anche 1 2 3 così ci mettiamo la torcia però 1 va bene ok così è più figo poi 1 quindi 1 2 3 1 2 3 perfetto facciamo la stessa cosa di qua 1 2 3 questo si spacca qua è 1 2 3 questo si spacca 1 2 3 perfetto diciamo così no deve stare così mi ero quasi dimenticato che deve essere simmetrico tutto perfino posizione in cui metti le cavole di torce non mi sa però eh un po' troppi che cos'è che cos'è mangiare qui la pistecca che è molto buona molto buona sai con me è buona è buona 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 sento già degli scaletti la cosa non mi gusta oh apatite tanta apatite non poca apatite in tanto modo non poca non pochetta non pochetta non pochetta ci vuole una torce pure qui così è molto più faigo si così qui c'è qualcosa che mi può servire facciamo il tuo fornire mio appresso perché so già che tanto finiremo una caverna da mangiare solo quelli quindi perfetto andiamo piccone mi servono picconetti perfetto perfetto questi dice portiamo per ricordo quindi va bene carbone buono caverna male decisamente male c'è la sua perché sento uno scheletro si no forse che c'è già della lava e lì c'è uno scheletro morto ok allora la cosa è abbastanza grave quindi bisogna farla con calma ma la cosa va fatta così con diplomazia diplomazia che non esiste al mio paese ma comunque cerchiamo di farla ordo nasce a te mannaccia muori non mi sono fatto la spada di ferro sono scemo ok molto benissimo ora dobbiamo fare in qualche modo una scala no che è un altro ammissè però eh che ancora troppo intelligenti amo non so nella pace 1.2 quindi non sono intelligenti invece è un mizzo però ok sto pensando troppo sto pensando troppo sto pensando troppo allora bisogna buttare sicuro per prendere questo 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 lì non mi fido qui c'è roba perfetto qui bisogna fare un piccolo lavoro di annullamento del prodotto che vi dico la legge di annullamento del prodotto su minecraft se c'è una torcia non spawnano mostri quindi si annula il prodotto delle paure quindi qua salire bisogna fare un piccolo aspetta usiamo questo qui non vorrei lag ok ok quindi per lì quasi sale benissimo si chiaramente c'è delle porte mi sa eh vorrei che poi qualcuno abbia la brillante idea di venire qui come un grande scemo che qua non mi fido per niente proprio vai vai spera che si mirada tutta se no la cosa non va bene qui mettiamoci anche un blocco qui che sai com'è non va anche uno qui e uno qui e uno che non lo fa così non ci sta niente perfetto proprio perfetto quello che volevi sentirti dire come tornare nel deserto e no ok non lo so oddio che cos'è oddio 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 usiamo la terra possiamo usare le bocchette ok bussiamo ok cerchiamo di fare meno danni possibili e ancora sfondiamo il muro ancora bussate insieme a me sto giocando tanto e beh che vuole qui e boh sarà malato mio fratello è malato oddio e ancora e non mi sa' la chiavetta e una dopo perché sto giocando con la chiavetta giochi no e dai ma non vedi qualcosa verde quello quello se non va via mi splode in faccia ah quindi vattene un secondo oh no mi sei no devo disattivare prima di buss dopo allora dopo mia mamma voleva che parlavo con il creeper per dirgli di aspettare non ci credo